Oggi siamo qui nella meravigliosa Consigliere di Mazzara per parlare di medicina. Una medicina un po' particolare perché si occupa di cardiologia e cardiochirurgia, angioplastica e aritmologia. Quindi è sicuramente un congresso, un incontro di alto livello, sia per la qualità dei relatori e sia per i temi trattati. È importante che questo congresso vuole coinvolgere il nostro territorio, della provincia di Trapani. Infatti la maggior parte dei relatori e partecipanti sono i colleghi che provengono dalle unità operative di cardiologia di Mazzara, Marsala, Castelvetrano, Alcamo, Trapani e Sciacca e che quindi vogliono fare un punto su quelle che sono le ultime conoscenze, le ultime innovazioni in tema di cardiologia interventistica e cardiochirurgia. Siamo lieti che Mazzara accoglie questi incontri e lo può fare dall'alto della sua bellezza, dall'alto della sua organizzazione e dalla capacità di noi tutti di organizzare qualcosa di positivo.